La buona notizia è che non abbiamo visto un solo scudo nero dopo Auldil. Ho trovato chi stavano cercando. Non è affatto come lo ricordavo. Una corona perde facilmente il suo lustro. Non è abbandonato. Ehi! Abbiamo ospiti! Non è abbandonato. Non è abbandonato. Non è abbandonato. Credo che questo compito richiederà ben più del solo ingegno. se serve ed a un buon quartiermastro dici da allora lo faremo e la benedizione della finice sia con voi da quanto state inseguendo gli scudi neri da quando hanno bruciato il primo villaggio abbiamo trovato i bastardi responsabili e gettato i cadaveri nella bonaccia e ciò ovviamente li ha fatti innervosire da lì è stato tutto un giocare al gatto e il topo che io sia dannato vieni andiamo fortuna per loro eccoli lì attendiamo l'ordine signore che cosa c'è ora? vi ho già detto che... abbiamo un messaggio per la viceregina da parte dei guardiani della fiamma quindi tu hai davvero il coraggio di dirmi che un misero paio di luridi vagabondi una donna e un cane pensano di fare qualcosa contro la forza degli scudi neri? fatevi sotto morite voi e la vostra fiamma per rosaria! per rosaria! la vostra sciocca rivoluzione finisce qui lo giuro sulla lama delle nostre spade maledizione rinforzi dalla sponda opposta un'altra biberna che combatta questo loro a qui i draghi gli imperiali non vogliono correre rischi ma sarei quasi rinforzato ahamut! addio Oh, cazzo. Odino! Un nobile tentativo, davvero, ma assolutamente inutile. Tutto questo non fa che dimostrare la nostra teoria che questo dannato regno ha necessariamente bisogno di un'epurazione. Così va meglio. È provato. Capoletto! Capoletto! Il buce sia! Capoletto! 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 Merda! Ho scusso il video. Merda! Maledizione! Non resta nessuno a tenerli impegnati! Dobbiamo finire in fretta! Finire e finirlo! No! No! È finita! Dio signor! Mori! Vai bene! Serviva proprio! Non! Vια! Viva! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.